Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo. Sono tornati tutti, è tornato Van Der Poel, è tornato Carapazza, è tornato Pogazzar, è tornato Remco ed è tornato il mio bel faccione e soprattutto rullo di tamburi, è tornato il baccolino. Dopo avermi fatto perdere chili e capelli per due settimane, il mio cane quindicenne ha deciso di rimanere con noi ancora un altro po' e allora io ho di nuovo voglia di fare dei video. In questi giorni ci sono un sacco di giri brevi che sono stati tutti compressi nel giro di 2-3 settimane per riuscire a incastrarli in mezzo fra Giro d'Italia e Tour de France in quest'anno in cui la distanza fra i due gitti principali dell'anno è notevolmente ridotta dalla presenza dell'Olimpiade di Tokyo. In questi giorni stiamo avendo la fortuna di seguire in contemporanea i giri di Svizzera, Belgio, Slovenia, Occitania eppure il giro under 23 totalmente dominato da Juan Ayuso, spagnolo classe 2002 che sembra veramente un super talento per i gt, non solo un talento qualsiasi ma uno che potrebbe competere con i nostri amici Tadei Pogazza, Remco e Venepo, Legan Bernal eccetera eccetera. Molto interessante per gli anni prossimi ma nel frattempo noi ci occupiamo di qui ed ora di attualità e oggi inizio ad introdurre il tema secondo me numero uno e tutto il Tour de France che sviscererò in svariati modi da adesso al 26 giugno che è questa contrapposizione di stili tra i vari top team del World Tour con ribaltamento a specchio rispetto al recente passato. Cosa intendo? Che siamo abituati a vedere il team Ineos presentarsi a un Grand Tour portando sia l'organico migliore quindi i ciclisti dal numero 2 al numero 8 della squadra solitamente hanno una qualità media irraggiungibile dalle altre squadre ma anche il numero 1, anche il loro leader di classifica designato solitamente è il corridore più talentuoso del gruppo vedi Chris Froome, vedi Egan Bernal, vedi Geraint Thomas quando ha vinto il Tour nell'ultimo paio d'anni questi equilibri sono stati totalmente modificati dall'arrivo dei due sloveni da quando Primoz Roglic è riuscito ad affinare le proprie qualità a diventare solido un corridore da GT da tre settimane che poi per carità può calare l'ultimo giorno, l'ultima settimana ma comunque rimane colui intorno al quale si sviluppa tutta la corsa l'abbiamo visto sia nelle ultime due volte Spagna che all'ultimo Tour e Taddei Pogazzar che ovviamente da precocissimo è diventato il numero 1 dei Grand Tour in questo momento al mondo colui che ha più credenziale di tutti, colui che ha sempre i favori del pronostico addosso a partire da quella pazzesca crono sulla planche de Belfi che ha certificato che Taddei Pogazzar è un talento generazionale per i Grand Tour uno che nasce ogni tantissimo e mentre Jumbo Visma e UAE Emirates costruiscono tutta la squadra intorno a queste due prime donne intoccabili senza avere dei piani B che possano pareggiare le loro potenzialità Jumbo aveva già l'anno scorso uno squadrone pazzesco dietro a Roglic UAE l'ha costruito quest'anno dietro a Pogazzar dopo aver visto che ne vale ovviamente tantissimo la pena Kroesvik, Domoulin, Van Aert, Wingegaard, Tolok alcuni dei gregari che aiuteranno Roglic a tenere la corsa chiusa tra giugno e luglio in Francia così come per Taddei Pogazzar campione in carica ci saranno il solito Davide Formolo Dela Cruz che l'anno scorso è stato l'unico ad aiutarlo al Tour il fedelissimo Polans ma hanno aggiunto un qualcerto Rafa Maika che sarà il suo luogotenente ufficiale è stato firmato esattamente per essere il suo pesce pilota nelle tappe più importanti di montagna dall'altra parte c'è una Ineos Grenadiers che si presenterà senza uno dei due favoriti ma con uno squadrone atomico piena di punte che potrebbero fare podio in una qualsiasi edizione di un Grand Tour e vincerla in edizioni nelle quali sono particolarmente brillanti ma non hanno il super mega fenomeno quello che era Chris Froome quello che è stato Egan Bernal al Giro quello che sarebbe dovuto essere Garen Thomas allo scorso Giro ma poi è subentrato Tao una volta caduto Thomas e il Giro l'hanno vinto lo stesso proprio perché dal 2 all'8 sono i migliori di tutti e grazie al gioco di squadra e a un Rohan Dennis pazzesco sono riusciti a portare Tao Gaghan Hart sul trono del Giro d'Italia al tour ci saranno Thomas, Carapaz lo stesso Tao e Richie Port che l'anno scorso ha fatto terzo al tour tutti insieme più svariati gregari molto forti come lo stesso Rohan Dennis capace di singole azioni che ribaltano da sole un intero Grand Tour con le sue infinite trenate quando si mette il compagno scalatore sullo zainetto come quando i nostri genitori si portavano a camminare in montagna da bambini cioè intendo nostri di noi che non abbiamo le montagne in casa perché lo so che voi nativi delle montagne siete dei provetti scalatori a fare qualsiasi cosa nella vita beati voi che fate le maratone dolomitiche a 12 anni ora io sono molto molto curioso di vedere cosa uscirà dall'interazione di queste tre forze al tour Bogazar col nuovo trenino Roglic col vecchio trenino e un sacco di spirito di rivalsa dopo il tour dell'anno scorso e la Ineos a fare i guastatori a inventarsi delle robe a tenere in classifica Thomas dopo le crono per poter lanciare Carapazza all'attacco insieme magari a Danny Sapport o chi per loro e quando viene ripreso uno parte l'altro quando viene ripreso l'altro parte un terzo è questo che mi piacerebbe vedere al tour e che Dave Bresford si è promesso dopo tutti i discorsi sul nuovo stile Ineos il nuovo modo di correre più attento allo spettatore questa è l'occasione giusta per farlo vedere proprio perché non hanno il migliore della corsa a Romandia avevano i due migliori della corsa e hanno dominato lo stesso è successo al Delfinato allo Svizzera hanno Carapazza che a livello di scalatori puri è assolutamente imbattibile da quel field al giro ovviamente avevano Bernal stavolta sono loro a dover rincorrere sono loro a dover far saltare il banco sono molto curioso di vedere cosa tirano fuori ci sono le potenzialità per fare cose bellissime soprattutto con la gamba che sembra avere Richard Carapazza che oggi ha tritato una tappa con un penultimo colle molto duro e un finale in falso piano qualcuno ha detto Courmayeur falso piano nel quale ha veramente tritato tutti dopo essere partito all'attacco ha battuto anche full sanguinvolata vincerà il giro dello Svizzera domani c'è una crono molto importante ma metà è in salita e metà in discesa non c'è pianura non dovrebbe avere alcun problema Richard che poi il giorno successivo ha la vera tappa di montagna del giro breve e quindi il Riccardo ha scelto lo Svizzera per prepararsi per il tour Tadej Pogacar ha preferito una corsa con meno pressione addosso più tranquilla in un contesto casalingo il tour of Slovenia e quest'oggi anche lì in una tappa con salita discesa salita se ne è andato nel penultimo GPM non ha fatto prigionieri ha voluto far la prestazione spingendo fino in fondo per poi guardare i numeri al computerino a fine giornata questo era un purissimo test per il tour de France quello che ha fatto oggi Pogacar contro un field inesistente non c'è nessuno che possa neanche lontanamente stargli vicino in questo Slovenia ma è un modo di approcciare i Grand Tour che vediamo sempre più spesso l'anno scorso le cadute del delfinato hanno rovinato la stagione a un sacco di corridori anche Roglic era caduto e infatti non a caso Primoz Roglic arriverà al Tour de France da vergine senza correre nessuna gara agonistica negli ultimi due mesi ha tenuto un'ottima forma per tutta la primavera e poi si è fermato del tutto in questo momento se non sbaglio è a Tign o quantomeno c'era qualche giorno fa insomma si sta allenando in mezzo alla neve in montagna in Francia e ha optato per un approccio radicalmente diverso da quello che ha avuto gli anni scorsi negli ultimi due anni infatti Primoz non ha saltato praticamente nessun appuntamento importante in stagione e ai Grand Tour ci è sempre arrivato con due o tre corse di preparazione alle spalle a volte anche di più ha sempre vinto tantissimo ma in terza settimana ha sempre pagato qualcosa se andiamo a vedere invece quando ha vinto la sua prima Vuelta scopriremo che anche lì Primoz non aveva corso per i due mesi precedenti e poi alla Vuelta ha tenuto la forma per tutta la gara e ha vinto il suo primo Grand Tour nel 2019 l'anno in cui ha fatto terzo al giro subito dopo andò a vincere il Giro dell'Emilia e le Trevalli Varesine dimostrando di aver mantenuto la gamba al termine della Vuelta a mio avviso sta cercando di coppia e incollare la sua seconda metà di 2019 in questa fase centrale del 2021 con il Tour de France e poi le Olimpiadi di Tokyo ovviamente quindi vediamo che ognuno dei nostri protagonisti ha scelto una via diversa per arrivare al Tour sempre molto interessante a mio avviso vedere quale sia la strategia che paga di più soprattutto in questo momento nel quale queste strategie si stanno evolvendo rapidamente l'idea di arrivare a un Grand Tour con le gambe scariche fino a pochi anni fa non veniva neanche presa in considerazione praticamente a Remco è andata male al giro ma Remco veniva da un infortunio grave tra l'altro a quanto pare la gamba l'ha già ritrovata perché sta totalmente dominando il giro del Belgio oggi ha vinto la Crono dopo aver già fatto di stacco l'anno scorso essere solo battuto in volata perché sarà preso 25 km di vento in faccia ma il caso Remco è stato un caso limite esperienze come quella di Roglic del 2019 ci dicono che è una strategia che può portare ai frutti dipende ovviamente sempre dal fisico del singolo atleta che risponde diversamente ai periodi di altura ai periodi di stop al fermarsi e ripartire oppure al tenere sempre una linea dritta di condizione mi viene in mente Van der Poel che dopo aver vinto le sue due tappe di fila allo Svizzera oggi è andato in fuga così senza letteralmente alcun motivo non ha neanche sprintato per la maglia a punti era puramente per sentire la gamba per sentirsi un pochino per continuare a costruire questa condizione perché a lui serve così ad ogni corridore serve qualcosa di diverso al tour mancano due settimane si stanno scaldando i motori Carapazza al gambone batte tutti Pogazzarza al gambone batte tutti Roglic fa l'ognorri e forse fa ancora più paura così di prima Karen Thomas al delfinato non era brillante al 100% ma il delfinato era più lontano dal tour delle corse di questa settimana non dimentichiamolo e insomma credo ci siano tutti gli elementi per divertirci tantissimo dal 26 in poi nel frattempo in Occitania ha vinto Andrea Vendrame la prima tappa grandissimo Vendramix finalmente quest'anno ha messo tutto insieme per iniziare a vincere con costanza non vedevamo l'ora oh mi mancava proprio avere questa lucina blu della telecamera che mi punta nell'occhio per tre quarti d'ora mentre registro con questo vi saluto e ovviamente vi saluto anche Bacco vi do appuntamento ai prossimi video fatemi sapere qua sotto chi pensate che vincerà il Tour de France ad oggi ma sono sicuro che la nostra opinione potrà cambiare mille volte da qua all'inizio del Tour se ti piace sta roba non dimenticarti il like e se non sei iscritto aspetta che te lo faccio dire da Bacco cosa stai aspettando ciao